Oggi è il 16, mi sembra, sì, mi sto grattando il sedere, puzza di sedere, comunque sì, dopo aver accompagnato mamma al mattino al lavoro sono tornato a casa e ho giocato al scom, facendo anche qualche compito minore tipo inviare email, mi devo lavare il dito Sì, ho giocato al computer tutto il mattino senza pentendomi, senza pentirmi e non me ne sono pentito, sono stanco, sono le 9 e un quarto, devo andare letto, non ho scritto a Raffaella per tutto il giorno, le ho scritto tipo mezza ora fa, non ho ancora risposto, andrò a letto senza E' stato una bella giornata, ho portato mamma da stanga, sono stati dentro, qui mi hanno chiamato, ci siamo chiariti, vi hanno parlato, mamma è di buon umore, stanga è contento, pensa che non dovrà essere sottoposta a nessun tipo di trattamento Dopodiché siamo andati a fare shopping, io e mamma ci siamo comprati dei vestiti con i soldi che ho risparmiato da stanga Perché ho fatto pagare il 50% perché la mamma non ha fatto da robina, non so, cacchiacchierato Ed è stata fondamentalmente la giornata di oggi, non ho fatto niente ma sono contento Grazie a tutti